Il mese scorso è successo che una ragazza ha avuto il mio stesso problema, non in Lombardia come me, ma in Calabria. Purtroppo lei non ce l'ha fatta, lei è morta perché successivamente al suo parto ha avuto un'emorragia e non ci sono state le sacche di sangue o di plasma per permetterle di continuare a vivere. E' toccante il racconto di Cristiana Pellegatta, mamma salvata all'ospedale di Sondrio. Originaria di Dubino, vive a Cosio Valtellino e si divide fra gli impegni familiari, quelli sindacali nella CGL e il campo da calcio. Abituata a presidiare la difesa, ha giocato la partita più difficile subito dopo il parto. Che cosa è accaduto? Un anno fa ho partorito, è stata un'esperienza veramente importante perché oltre a darmi un figlio mi ha anche causato dei problemi. E il problema che ho avuto io dopo il parto è che appena cinque minuti dopo aver partorito mio figlio ed è andato tutto bene con un cesareo, purtroppo ho avuto un'emorragia, un'emorragia seria. Fortunatamente mi trovavo all'ospedale di Sondrio e fortunatamente i medici, le ostetriche, l'infermiere che erano lì con me mi hanno salvato la vita. Devo proprio dire che mi hanno salvato la vita. È stato proprio il gioco di squadra a fare la differenza. Allo staff guidato dal primario di ostetricia e ginecologia Ciro Sportelli si sono infatti uniti i colleghi degli altri reparti ospedalieri. Ho avuto a disposizione subito tutto. C'era la patologia neonatale, c'era l'anestesista, c'era il reparto di rianimazione, c'era tutto a mia disposizione. Lei purtroppo aveva le sacche di sangue, sì, ma a 25 chilometri. Io le avevo lì ed era tutto pronto. Mi dispiace pensare che se avessi partorito da un'altra parte oggi forse non potrei nemmeno vedere mio figlio, vederlo crescere o stare con lui. Da 20 anni giochi a calcio, questa pausa ovviamente era legata alla maternità, ma in futuro che cosa vedi? Vedi ancora il rettangolo verde? Allora, io sono fiera di dire che gioco a calcio, soprattutto adesso, dopo che c'è stata l'esploit del calcio femminile quest'anno. Io gioco nella Pontese che per me non è solo la squadra di calcio, è un pezzo della mia vita, è la mia famiglia. Quest'anno, grazie al presidente che è Caparbio, si farà di nuovo la squadra. La Pontese ci sarà ancora. Grazie a tutti.